Capoterra quattro anni dopo. Le immagini del disastro che investì il Comune Sardo a seguito dell'alluvione del 22 ottobre 2008 sono ancora vive in chi ha vissuto sulla propria pelle quella tragedia. Il bilancio fu di quattro morti e undici indagati, morti che forse si sarebbero potuti evitare con i dovuti accorgimenti e le attenzioni richieste dal caso, data l'allerta meteo che arrivò da Roma. Oggi abbiamo voluto fare il punto della situazione con l'attuale sindaco Francesco Desi per capire cosa è cambiato dal 2008. Da quell'esperienza si è cercato di migliorare almeno nel nostro piccolo ma anche con la regione a chiedere interventi per la messa in sicurezza del territorio perché la prima cosa è quella della messa in sicurezza del territorio per mettere in sicurezza i cittadini. Mentre per quanto riguarda invece i danni avuti, subiti dal precedente alluvione è stato risanato e arginato tutto da quel 2008? Dal 99 parliamo delle due alluvioni, nel 99 capoterra colpì il capoterra centro storico ed è stato arginato tutto, quasi tutto. Difatti nel 2008 nel centro storico è successo poco, qualche allagamento di cantine, qualche smontamento ma grazie a quelle opere fatte subito dopo il 99, cioè i canali di guardia, attorno al centro storico diciamo che i cittadini non hanno corso pericolo. Mentre adesso per il 2008 la regione ha stanziato 11 milioni di euro per l'allargamento del tratto che va dal statale, 195 alla foce del rio San Gerolamo e quindi sarà allargato, portato a 50 metri l'albero del fiume per mettere in sicurezza i rioni che sono a rio San Gerolamo e a Frutti d'Oro II. Noi come comune abbiamo subito tirato su, fatto questo piano di emergenza che comunque indica tutto quello che i cittadini, ma anche i nostri operatori addetti proprio all'emergenza devono fare. E poi abbiamo tirato su tutto un sistema che tende a garantire una sicurezza con un sistema di messaggistica dove noi ai cittadini che hanno avverito col numero di cellulare inviamo le allerta meteo moderate o alte o elevate e quindi cercando di avvisare in tempo anche i cittadini stessi.